ciao a tutti io sono l'aria e bentornati in questo nuovissimo video sembro monotona forse lo sono perché facciamo un altro spacchettamento di un altro libro al buio chi se ne frega a io sono sempre contenta quando compro questi libri perché c'è quella adrenalina di sapere quale libro c'è dentro questa busta e farsi spingere solamente dall'indizio sulla busta però prima vi voglio far vedere che ho comprato come un organo di nicolas spa vi farò sapere se mi piacerà sto ricorrendo un po di libri di nicolas e poca la volta li leggerò tutti insomma ne sono tantissimi suoi quindi calma e li leggo solitamente magari sotto l'ombrellone o appunto quando magari sono sotto sessione e mi aiuta un po a rallegrarmi e tenere comunque le letture attive nello stesso tempo un po più leggere insomma che poi sempre tramici sono i libri di nicolas però sono quei drammi piuttosto leggeri in confronto in confronto ad altri comunque ho scelto questa volta il colore viola super figo sembra blu però a me sembra viola cioè non lo so se è blu o viola cioè è viola no è viola forse in camera sembra blu però giuro che viola è viola con quante volte detto viola di 30 secondi però vabbè spacchettiamo allora intanto leggiamo gli indizi che ci sono sulla busta allora emozionante vibrante e meraviglioso a te ti ami le storie che accendono una luce in fondo al buio mi servirebbe in realtà un libro che mi accende un po un po di luce interiore perché ho postato un'estate anzi primavera estate un po un po sottotono a livello emotivo e per quello che magari sono mancata certe volte e anche per diverso tempo e se alcune volte video sono saltati o arrivati in ritardo e per quello e adesso mi sto un po riprendendo non me la sento di raccontarlo sul web e però sono successe delle cose che insomma che mi hanno buttato giù a livello morale però dagli e ce la possiamo fare mi sto riprendendo sono un po più contenta e un libro se davvero le indizi sono gli indizi sulla copertina dicono il vero che molte volte così e allora mi servirebbe davvero per ridarmi un po un po la carica comunque nel retro c'è scritto non puoi vedere nel titolo né autore questo è il solito trantranno che dicono sempre fatti guidare gli indizi sulla busta lascia che sei il libro scegliere te e la bacchetta scegliere il mago signor pot poi di questo libro hanno detto ecco andiamo un po più nel specifico perché queste sono un po le istruzioni generali di tutti i libri al buio e quindi dicono di questo libro una magnifica scrittura o il lettore non potrà che essere fulgurato dall'intelligenza e dalla resilienza della protagonista dei suoi fratelli quindi ci sono poi quindi sarà una donna protagonista con dei fratelli bene vediamo spacchettiamo c'è a me dispiace distruggere solitamente delle buste queste perché sono super fighissime se sembra probabilmente un pacco regalo però noi riceviamo molto nella carta mi raccomando sempre ovviamente libri con la copertina rigida ci sono disegna libri bene me lo potevo aspettare questo ne ha uno simile anche questo c'è uno simile ovviamente libri diversi perché di fatto c'era questi segnalibri ti suggeriscono altri libri questo invece c'è scritto il mondo visto da mica rossa ok altri insomma segnalibri che ti suggeriscono altri libri vediamo se c'è qualcosa altro non credo ma non avevo mai trovato segnalibri di info di che bello è super figo raga il castello di vetro jeanette walls giuro è super figo mi ho messo un sacco di allegria no che bello sono super contentissima sono veramente molto molto contenta perché i due libri che avevo già spaccettato dei libri a chiuso erano di thriller quindi erano un po cupi no è come giusto che sia due thriller insomma invece questo mi dà super allegria che super figo il best seller che ha segnato milioni di lettori o è un grande film quindi poi recupererò ma che il film di glass castle in inglese quindi per fortuna hanno tradotto il titolo proprio letterale super figo allora leggiamo cosa c'è scritto dietro quando non ci parlava di tutte le cose straordinarie che aveva fatto papà ci raccontava quelle che ancora voleva fare come il castello di vetro una grande casa che avrebbe costruito per noi nel deserto con il soffitto di vetro spesse pareti di vetro e persino una scondita di vetro tutto ciò che dovevamo fare è trovare loro questo vabbè penso sia un estratto del libro vediamo un po la trama nessun bambino dovrebbe affrontare ciò che la mamma e il papà di cianette hanno fatto passare i loro figli ma tutti i bambini dovrebbero avere una famiglia come quella è il padosto del vero amore anche se è imperfetto ti salva seconda di quattro figli cianette è crescita in una famiglia che oggi si chiamerebbe disfunzionale il padre rex poliedrico bizzarro di grande intelligenza non riesce a tenersi nel lavoro nei soldi per rive dell'alcol perde al gioco e costringe tutti a una vita da nomadi per fuggire dai creditori la madre rosemary artista insegnante è insofferente a qualsiasi responsabilità e sostiene che i bambini debbano cavarsela da soli che si tratti di procurarsi il cibo il necessario per scaldarsi o rammendarsi i vestiti per non andare in giro con i buchi la quotidianità dei fratelli wolfs è bizzarro belancio di meraviglia funambulismo e tragedia rex si occupa dell'istruzione dei figli insegnando loro geologia astronomia e letteratura con lezioni sotto le stelle ma i fratelli devono imparare presto a proteggersi a vicenda e a tenere a bada l'incoscienza dei genitori eppure nonostante giannette sin da giovanissima sapesse che solo volando via da quel nido vado poteva salvarsi non ha mai smesso di pensare con affetto alla propria infanzia e da riconoscenza nei confronti dei suoi più perfetti genitori perché le hanno fatto un dono prezioso un amore incondizionato e la libertà quindi è la biografia dell'autrice da quello che ho capito giornalista e scrittrice vive in virginia con la famiglia ha collaborato con diverse testate tra cui us today e squire e new york magazine bene questo video finito spero vi sia piaciuto in tal caso lasciate like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se lo avete letto vi è piaciuto anche il film magari se me lo consigliate e iscriviti al canale se non ancora l'ho fatto attivando la campagna in linea per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima ciao